Ciao a tutti Youtubatori! In questo video vi parleremo di... Tatsumi Kimishima, il nuovo presidente Nintendo! Sigla! Parliamo di Tatsumi Kimishima! E' nato nel 1950, ha ormai 65 anni e lui ha cominciato a svolgere i suoi compiti di presidente il 16 settembre. E' un vecchio pelato con gli occhiali, mi ricorda tanto il vice direttore di GTO. E già, speriamo non pensi troppo alla sua cresta, ma è bene di Nintendo. Story of the new president! Questo uomo non è uno sviluppatore come lo è stato Iwata, o un artista come Miyamoto. Lui era un bancario di Tokyo, è stato anche a New York, è entrato in Nintendo nel 2000. E gli viene proposto di occuparsi degli ingenti incassi dell'emergente Pokémon Company. Nel 2002, divenne presidente di Nintendo of America, prima di essere poi sostituito nel 2006 da Reggie Filsame! My body, my body is ready! Tra l'altro, fu Tatsumi che disse... Così ora lui potrà dire... Ma ricordate ragazzi, questo presidente rimarrà in carica soltanto un anno, prima di trovarne uno più giovane e virculto. Tatsumi Kimishima farà parte di un primo virato composto, oltre lui, da Shijiru Miyamoto e Takeda. Questi tre daranno maggiore stabilità a Nintendo e al contempo lasceranno questi posti più cooperativi per le nuove leve. Kimishima non stravolgerà i piani di Wata, infatti continuerà il percorso del Nintendo NX e delle collaborazioni per lo sviluppo su mobile. Grazie per la visualizzazione! Commentate, mettete mi piace se vi è piaciuto! Ci vediamo nel prossimo video! Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now!